Sono fuggiti dopo aver divelto un'inferriata della palestra. Tre giovani detenuti, che devono scontare pene medie di 5-6 anni per reati legati alla tossicodipendenza, sono evasi dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, facendo perdere le loro tracce. Subito è stata attivata la rete di controllo del territorio per cercare di rintracciarli. Personale di Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Polizia di Stato stanno setacciando il territorio per cercare di individuare i fuggitivi, tutti d'età compresa tra i 19 e i 25 anni. Sull'episodio il sindacato OSAP ha posto l'accento su una politica penitenziaria dissennata, della quale le evasioni sono frutto. Una politica che mette il detenuto al centro di ogni possibile diritto e concessione, a discapito degli uomini della Polizia Penitenziaria. Duro anche l'intervento del sindacato Sappe, che ha rilevato come tre evasi siano fuggiti da una struttura che fino a poco tempo fa era adibita a ospedale psichiatrico giudiziario e che non è mai stata adeguata. Non è un caso, afferma il Sappe, che i tre siano fuggiti da un'area che non ha videosorveglianza e da una realtà che ha visto andare in pensione 50 poliziotti penitenziari senza che gli stessi venissero rimpiazzati.